Alleanza strategica nei cieli del mondo tra Cantas ed Emirates, due delle principali compagnie aeree che ora potranno offrire voli transcontinentali in code sharing. Dopo 17 anni finisce così la collaborazione di Cantas con British Airways e si apre una fase definita storica. E' uno dei giorni più importanti nei 92 anni di storia di Cantas. Il nostro partenariato con Emirates è forse il più grande accordo di collaborazione che abbiamo mai fatto. Nonostante la mia età e molti anni passati in questo settore, ancora oggi mi viene la pelle d'oca quando vedo due magnifici aerei come questi volare così vicino e così bene. Da oggi la compagnia australiana raggiungerà Londra via Dubai e non più via Singapore. Finora Cantas ed Emirates trasportano già il 65% dei passeggeri su questa direttrice.